Sono stato accolto bene, benissimo dai nuovi compagni, non nascondo qualche iniziai difficoltà avendo saltato comunque la prima parte del ritiro, però si sono dimostrati tutti fin da subito molto disponibili e quindi abbiamo lavorato benissimo dal primo giorno e per me è importante capire fin da subito dove sono, quello che vuole il mister e le caratteristiche dei miei compagni. Ho scelto fin da subito a Lazio perché per me si trattava di un'opportunità troppo importante, quindi appena saputo dell'interesse non ho voluto ascoltare altre offerte, ho aspettato appunto per motivi di mercato che tutto si potesse sistemare, mi sono allenato fino all'ultimo giorno che poi ho firmato da solo sapendo di approdare in una grandissima squadra. Penso sia riduttivo soffermarsi su un singolo ruolo, nasco come ha detto il direttore trequartista, poi negli ultimi anni penso di essere maturato tanto dal punto di vista fisico, caratteriale e tattico come regista basso e penso quello sia il ruolo che negli ultimi anni ho fatto meglio, però posso fare benissimo altre ruole e penso che questo debba essere anche un mio punto di forza e spero di poter con le mie caratteristiche dare una mano a questa squadra che è già molto forte. Io penso che la Lazio debba sempre puntare alla vittoria in ogni partita e la mentalità anche che da quello che ho visto in questi due settimane che sono qui è la mentalità dell'allenatore. Incontriamo una grandissima squadra che vince in Italia da tanti anni con una mentalità vincente, però insomma la Lazio è una grandissima squadra, ha fatto un'annata straordinaria l'anno scorso e quindi si merita l'opportunità di giocare questa partita e proveremo a vincerla fino all'ultimo minuto. La Lazio per me rappresenta un punto di arrivo, nel senso che mi trovo in una grandissima squadra, in un grandissimo contesto, quindi ho lavorato tanto per arrivare a questo momento. Mi sono dovuto reinventare perché sono partito nelle giovanili i primi anni di carriera in under 21 come trequartista, però per affermarmi a determinati livelli, tre o quattro anni fa ho preso la decisione di arretrare il mio raggio d'azione e questo mi ha portato ad avere chiamate importanti come adesso a Lazio e magari in passato ne ho rifiutata anche qualcuna, però penso che questo sia stato la svolta nella mia carriera, il fatto di aver cambiato ruolo mi ha sicuramente fatto maturare sotto tutti i punti di vista.